Ma buongiorno! Rompicoglioni! Buongiorno! 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 Buongiorno a questo cazzo! Nooo! Nooo! Chiudela! Levate di coglioni! Mi fai giù per te subito! Scusa! Scusa! Scusa a questo cazzo! C'è da fare oggi? Si! E' partito subito carico! Eh? Dai pulisci un'altra volta! E' vero? E' come ne è vero! E' pulita o no sta stufa? Non ce l'ho più adesso! E' pulita? Si! E' pulita o no? Si si è pulita! Senti che profumino che ha messo un profumino ragazzi fantastico! Ti piace come adobbo natalizio? E' preso quel che stia fuori! Ti piace o no come adobbo natalizio? Ma quello! Eh lo è! Guarda guarda che adobbo natalizio ti ho messo! Ti piace o no? Si si mi piace! Che ti piace? Non lo manco che dico! Oh ma queste le mani! Quante c'è stronzo! Oh ma queste le mani! Quante c'è stronzo! Ma tu sei uno stronzo con la bandiera dal culo! Ma perchè? Ma le mani! Anche una tazza stronzo! Ma le mani dai! Ma che mani? Che c***o! No un po' le tricolariccio! Tu la mani questa roba io! Ma dai un po' le tricolariccio la! Un po' le tricotasi! Mannaggia il crocistrato! Motteli! Ragazzi! Stiamo per fare il presepino! Vediamo se ci riesce bene! Perchè non l'ho fatto mai lì! Quindi stiamo vedendo! Sarà una sorpresa per il nonno! Fermi papiago! Oh! Quale scene che guida me? Ma perchè? Ma che perchè? Che perchè? Stai attento che quella è la macchina girata! Ma che c***o c***o! Stronzo! Ardaio! Un'altra volta! Come ora fa? Ed è già a fanculo! Dov'ho là? Oh! Ah li scappano tantino! Non è che da girare! Ma là dove? L'ho accostato lì dal muro! Ma verso sinistra o destra? Ma verso sinistra o destra? Finisce sempre così! Che bel Natale che si prospetta! Che bello! Va bene? Ma manco scende! Manco scende! Vuole? Tira fuori questa maina che l'ha messo da me! Do la metto! Dal c***o mettono! Ma ti pare un comportamento? Una comportazione? Che bel presepe che mi ho fatto! Sì! Del c***o! Che stai cercando? I fili che stavano di qui! Dove li hai messi? Io no! La prolunga? Eh! Quelli che stavano di qui! Dove li hai messi i fili? O l'ha rubati gli alieni? Oppure... Secondo me sono sbagliati! E' la magia del Natale! Vaffanculo! La magia del Natale non contempla il vaffanculo! Devi essere più gioioso! Un altro presepino! Sei circondato da presepi! Vattene! Ma sei circondato da presepi! Da felicità! Da gioia! Mannaggia! Ma io lo sopporto questo! Eh? Ma è la gioia del Natale! Lascia qua di c***o! È la gioia del Natale! Essere felici! Il bambinello Gesù! Che viene qua giù! Questa voglia di fammi dire! Quattro moccole fatte per bene! E uno... Ma è la gioia del Natale! Ma vaffanculo! No! La bellezza del Natale! L'alberello! Mannaggia! Eh no! Eh no! E lei è la madre di Gesù! Ma come ride qua! E gli scappa la risata anche da lui! Te viene da ridere! Rido! Per quanto sia stupido! Però alla fine il bello del Natale è ridere! Essere gioiosi! Sì! Stare bene in s***o! Ma ridi per quanto sia stupido! Eccolo il sorriso! Dammi un bacetto! Dammi un bacetto! Vattene! Bipolarismo ai massimi livelli! E scasa! Guarda come scasa tutto il moccoletto! Perché quando gli scappano quattro moccoli! Non potendoli di dalla bocca li vanno dal naso! È vero? Vattene! 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 Non passare! Oh! È finita la gioia! Così! Ragazzi guardate che spettacolo! Che bello sta casa raga eh! Annamarino! Mamma mia! Mamma mia raga! Mamma mia! Immattibili! Attenzione! Riaprono le piste da sci! Sta nevicando! Incredibile! Riaprono skillift! Seggiovie! Contro ogni decreto! Contro ogni tutto! Contro ogni dpcm! E' lui che sta riaprendo le piste da sci! Incredibile! Ski pass! Skillift! Seggiovie! Funicolari! Sta riaprendo tutto! Incredibile! Ha nevicato! Ma tu mi fatti due! Quando ti fai? Ha nevicato anche oggi! Incredibile! È andato contro ogni dpcm! Eccolo qua! Fa la faccia di uno che è andato contro ogni dpcm! Oh! Ma capito! Ma capito! Ma che cosa fa? Che da fa? Ma la mia sangue si è attappato dentro! Fa! I'm not joking! Oh! Non mi fai segnare! Ah! Fa! Fa! Ma sta c***o dai bleccare il piste al bagno! Fa! 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 Io sono nel bagno! Fa! 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 Ma che c***o! Fa! Ma che c***o! Fa! Ma che c***o! Fa! 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 Raga mi sta per prendere qualcosa! Fa! 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 Un regalo per un amico mio! Fa! 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 Ma la mette questa mascherina o no? vai oh e quindi che graffa ahahah ahahah tozzo tozzo andreone 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 appena rientrato incredibile che stai fai un bel nonnino eh sto metto a posto la loro guarda che pelatina che ti hanno fatto guarda ti hanno buttato un cazzo siamo andati per rompire i c***i perché scappo eh minaccia no qui c'è tanto pesce ragazzi stasera c'è un odore di pesce e c'è anche mariadona che capello che ha fatto incredibile il capello si 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 il capello si 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 che capello ragazzi tutto pronto tutto imbandito per un'altra cena altre mille miliardi di cene e vai ragazzi qua sono 23 gradi e mezzo ve lo giuro raga è un caldo assurdo c'ho la maglia tra l'altro di veronica a 12 ha la possibilità di chiamare 23 gradi e mezzo sei contento di fare il presepino non mi nomina il presepio ma la morda la madonna se lo ti mangi alla testa perché? perché il batte va valla a pulire la macchina no spoiler di che? di che? anche a natale? si sempre anche a pasqua anche a pasqua? c'è fame di? sarà perché bisogna passare più tempo certo era un bel po' è mangiato o no? assaglia la tartare dai non rompe lascia la mia pederina te l'ha ronta la pronta e la sta ferma se lo faccio anche io ora che c'è il var oggi sono tutti e la sta ferma pesce qui pesce là pesce qua pesce qua e anche l'amico mio che anche oggi ha dieta se ne parla domani se ne parla domani se ne parla domani se ne parla domani com'è o no? il pesce è pesce e è buono ma la patatina com'è? eh la patatina eh? bella quando stai a casa il problema è questo cioè ecco guardate 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 cioè com'è possibile? com'è possibile? cioè spiegatemi ragazzi io vi sto per far sentire una scrocchevolezza i ciprioni assom ma chi se li ricorda dai cipriones? una finta che sarebbe passata carzughe? carzughe? oh oh no carzughe? sì sì ma ma con i cazzo mie carzughe? non parla coglioni oh no oh no oh no oh no oh no